Si è costituito ieri sera presso la sala sabignana di Canosa il comitato di lotta a tutela dell'ambiente contro la realizzazione dell'ampliamento della discarica incontrata a Tufarelli a Minervino. Hanno partecipato molti giovani, professionisti, tecnici, esponenti politici, sacerdoti e rappresentanti di associazioni uniti dalla volontà di fermare la mano di chi vorrebbe continuare a deturpare questo territorio che ha già dato, come hanno ricordato. Promettono battaglia agli intervenuti con la consapevolezza che la società civile farà sentire la sua voce e darà massimo sostegno al sindaco. Dal canto suo, il primo cittadino di Canosa, Roberto Morra, è intento a mettere in campo tutte le possibili azioni legali e atti amministrative in sinergia con la sindaca di Minervino, Lalla Mancini. Dura sarà la lotta, garantiscono i primi firmatari del comitato a no discarica che già da oggi si organizzeranno in gruppi di lavoro.